Buonasera. In questi giorni la nostra attenzione è impegnata su molti fronti. Stiamo lavorando per finanziare le iniziative di sostegno alle attività in collaborazione con Confcommercio e Confartigianato e contiamo di poter dare rapidamente un aiuto concreto a tutte le attività messe in grossa difficoltà da questa emergenza. Ci stiamo coordinando con tutti i soggetti che in passato si sono occupati dei campi estivi per sostenere questo importante servizio che quest'anno dovrà affrontare nuove regole e che sarà di supporto per chi rientra al lavoro. Stiamo sostenendo le famiglie in difficoltà con il nuovo bando per i buoni spesa. A questo proposito voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno fatto una donazione sul conto corrente comunale destinato a raccogliere fondi per l'acquisto di buoni spesa. Vi ricordo che trovate tutti i dati del conto corrente sul sito del comune. A questa iniziativa se ne affiancano altre. I carabinieri stanno facendo un importante servizio raccogliendo pacchi di genere di prima necessità donati da aziende o privati e li consegnano direttamente alle famiglie in difficoltà segnalate dai servizi sociali. È un gesto molto significativo che ci ricorda che le forze dell'ordine non si tirano mai indietro quando c'è bisogno del loro impegno. Grazie e ringrazio per questo anche tutte le aziende e i privati che stanno donando pacchi per la popolazione. Anche VPS sta continuando a raccogliere generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Potete contribuire alla raccolta all'uscita del supermercato Il Gigante delle Torri Bianche e alle uscite dei punti vendita Crai in Piazza Unità d'Italia e in Via Don Lualdi a Ruginello. I giovani della Caritas hanno organizzato una raccolta che va avanti da settimane e fino a domenica 17 maggio all'uscita del supermercato UNES di Via del Molinetto. Ringrazio i tantissimi cittadini che hanno dimostrato grande generosità e vi chiedo di continuare a fare il possibile perché questa situazione sta continuando a creare difficoltà economiche a molti di noi. L'altro importante fronte su cui siamo impegnati in questa delicata fase di ripartenza è quello della verifica dell'andamento dell'epidemia. La sensazione che si prova in certi momenti e in certi punti della città è che qualcuno si comporti come se l'epidemia fosse finita e si possa tornare a comportarci come prima. Non è assolutamente così. Devo richiamare con decisione coloro che si muovono con disinfoltura passeggiando per la città con la mascherina abbassata o senza mascherina perché mettono a rischio la loro salute, la salute degli altri e anche questa delicata fase di ripartenza. Non voglio certo fare terrorismo e siamo tutti provati da oltre due mesi di restrizioni ma nessuno si può sentire autorizzato a ignorare le regole. Gli spostamenti sono consentiti solo se motivati. Il moto è consentito ma dovete prestare attenzione a non andare nei luoghi più frequentati e soprattutto a limitare le uscite. Alcuni bar sono aperti ma solo per l'asporto e non ci si può affermare a fare assembramenti fuori dal bar mentre si consuma quello che si è acquistato all'interno. I dati ci dicono che dobbiamo fare molta attenzione. Il totale dei cittadini di Vimercate che hanno contratto il virus risulta oggi pari a 208. Negli ultimi dieci giorni si sono verificati 17 nuovi casi accertati. Il numero dei casi sta tornando a crescere dopo che aveva rallentato leggermente fino a venerdì scorso. Questo non è affatto un buon segnale quindi dobbiamo prestare attenzione. Da oggi ATS segnala anche il numero dei guariti dal coronavirus. Dei 208 cittadini che hanno contratto il virus ad oggi ne risultano guariti 90 mentre purtroppo i deceduti sono 33. 85 nostri concittadini risultano quindi ancora positivi e alcuni di loro lo sono da oltre due mesi. Ci sono poi 80 cittadini che sono stati in contatto con i positivi e sono obbligati a stare a casa in quarantena. Come vedete la situazione è tutt'altro che risolta e i medici, l'ospedale, i soccorritori sono preoccupati come tutti noi perché è evidente che il virus sta ancora circolando anche se in questo momento i suoi effetti sembrano meno gravi di due mesi fa. Nei prossimi giorni sapremo se con questa prima fase di riapertura siamo stati in grado comunque di frenare il contagio o dovremo prolungare le restrizioni. Chiedo a tutti la massima collaborazione e attenzione. Spero nei prossimi giorni di potervi dare buone notizie e indicazioni sulle disposizioni che tutti stiamo attendendo per la prossima fase sperando di poter fare un altro passo verso la normalità. Per adesso sappiamo cosa fare. Mascherina, distanza, lavarsi le mani. Serve l'attenzione e l'aiuto di tutti per farcela. Grazie.